Signorina Cina Vale interrogata, lei deve rispondere, anzi deve fare una verifica, un test su una materia chiamata Brawl Stars Ma no, aspetta, 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 è divertente, è divertente, è divertente, scherzavo, non ci sarà nessun voto, non siamo a scuola, ok? Comunque, dato che sei la regina delle regine, delle principesse di Brawl Stars, oggi facciamo un quiz e vediamo di cosa sei in grado di fare Dovrai riconoscere i brawler, dovrai riconoscere i loro attacchi speciali, dovrai riconoscere il suono Cosa? Attacchi cosa? Eh, ciao Vabbè dai, un bel mi piace se volete altri video del genere insieme a Cina Vale, magari gli facciamo fare quiz ancora più difficili la prossima volta Condividete il video e ricordate di seguirci sul nostro canale di coppia Ninna e Matti Ninna, che cosa? Oh mio dio, aspetta, non so che cos'è questo quiz, non so che dobbiamo fare C'è uno, un occhio Indovina il brawler, ferma, 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 forse sta iniziando da adesso il quiz E come faccio io? Devi indovinare il brawler dall'occhio Numero 2? Ah, Shelly, capito? L'occhio, qual è l'occhio di Shelly? Ok, ho capito, ho capito Sei sicura? Risposta definitiva? Ok, 2 Di sicuro non è la 1 Pure per me è la 2 Sì, 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 sì Pure per me è la 2 Pure per me è la 2 Ed è la 2 Brawa Ninna Attenzione ragazzi Attenzione Ne devi fare 15 su 15 eh Qual è l'occhio di Brock? Eh ma non me l'ha fatto neanche vedere Ma no, non te lo fa vedere Ma io non so neanche chi è Brock Ah, ecco Partiamo male 5 Dillo, dillo, dillo 5 4 3 2 1 No, 1 ne puoi dire 1 E 5 Ragazzi vi giuro non gliel'ho detto Eh ma non puoi dirgli tutti Ne puoi dire solo 1 Eh ma che lo so Io non so neanche come è fatto Brock Non ce l'ho Beryl Barilozzo Ninna Eh ma Dai è facile Questo l'ho trovato subito io Dai 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 Lo trovo No, non è 4 Non ho gli occhi bianchi Ninna non ti posso dare aiuti Mamma Manca poco 8 No Era 6 Avevi detto Eh ma l'avevo detto E ti ho detto non ti posso dare aiuti Eh ma tu però Sono forzacchi 8 Va bene Un errore per te No Non possiamo fare No Bull 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 Il bull è quello cattivo Sì lo so 8 Brava Su questo ti dico subito di sì Perché è semplicissimo Numero 8 Bull Eh però Che c'è? Non l'ho sbagliato quella di prima No sì che l'hai sbagliato Oh ma non puoi prendere subito 10 su 10 Vuol dire che sia una secchiona se prendi 10 Almeno adesso hai sbagliato uno E fai il figo Tipo eh Quasi tutte giuste Come no? Sì Penny Chi è Penny? Eh Penny Come te la spiego? È quella che mette il canale 12 La torretta che lancia le bombe Non ne ho idea Ninna 5 Secondo me 5 Secondo me 12 12 No hai detto 5 ormai Prima ho detto 12 Ed è 12 Eh prima l'avevo detto Cioè te dici la prima giusta E poi cambi Che cosa vuol dire? Sì hai cambiato Hai sbagliato Hai sbagliato Quando cambio dico cambio Non è Va bene Ah Io non sento Congrati Nathan Ah e devi indovinare E chi è? Oh madò E 3 Ma è impossibile così Non c'è nemmeno il nome del brawler Eh c'è il rumore che fa 3 E come si chiama? 3 Che ne so Non l'ha detto E quello è Carl Quello che fa così 4 4 4 Dai l'ho capito Dal tuo roxlation Chi era che ha Che ne so Hashtag roxlation Allora tu descrivimi Io provo a indovinare Facciamo così Ehi watch out Ok Ehi watch out Ehi watch out Here I come Ehi watch out E colt No 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 Ma come il 6 Quello è tic No non lo so A me sembra Colt E colt E colt E il 6 Ti l'avevo detto Tu non mi ascolti mai Ma sì il mio brawler preferito Era Corvo No Cavolo perché pensavo fosse colt Non ho capito niente Mi sa Allora io tra le tue cuffie qualcosa ho sentito E secondo me è il 13 È Dynamike Sì sì anche secondo me Cioè aveva la voce da vecchio no Eh sì sì E allora è Dynamike per favore È Dynamike Dai Nina Fai la serie Oh è pure indovinato È Dynamike Mi sta prendendo in giro No Ma mi prendi in giro È Dynamike È Dynamike L'ho capito perché ha la voce da vecchio Poverino È l'unico anziano che c'è Questa è quella cicciona Che aspira tutto Pam Sì E dove lo trovo l'occhio di Pam Su 24 numeri Oh mio Dio Oh mio Dio 24 forse Forse 24 ragazzi non me lo ricordo No 5 Secondo me è lei Secondo me è lei Ma 11 Eh Eh vedi Però hai indovinato Brava Nina Brava Ragazzi 24 occhi è impossibile Che io calcolanente ce l'ho lei Star power Indovina la star power È l'abilità L'abilità stellare È di queste non le hai sbloccate nemmeno È di Brock No non è vero Colt È l'occhio Ma basta con questi occhi però Eh Non lo so Nel numero Ma Eddie è il primo questa È il primo Mi stavo pure sbagliando Sì il 3 3 è il primo Sì è il primo 3 Ma C'ha la maschera È l'unico con la maschera È vero Mamma mia Mi stavo sbagliando sul brawler Che ho tutte e due le abilità stellari Ok ho indovinato Questa è giusta È il primo Queste tu ne le puoi indovinare Perché non c'è manco un brawler Con l'abilità stellare Ah Ne abbetta Eh ecco Cosa dicevi scusa Questo è Bull Sì è Bull Ma che Bull È Bull Ma che Bull Non lo so chi è Ti fidi È di un brawler Di cui non ho l'abilità stellare È Bull Ora non so qual è l'occhio di Bull Però è Bull Ma non è che è quella di Dynamike Che lo fa saltare Quindi Ma non ha quella freccia Quella di Dynamike No no è Bull Quindi tu dici 4 Bull E io dico 14 Di Dynamike Vediamo È 17 Mortis È di Mortis No ma non ce l'ho l'abilità stellare di Mortis Non vale Ultima eh Come ultima Ultima domanda Non c'ho manco questa Ah questo è quello col martello Frank Sì Come fa a saperlo Te lo dico io Vediamo se c'è Guarda vede che manco c'è No c'è per forza dai Ora io non so che occhio ha Non c'è Nin Ah no eccolo 14 È lui È lui Sì Ma come fa a saperlo È lui Oh mamma mia Ma il 16 chi è scusa È un pallino celeste Boh Non lo so sinceramente Ma te sentivi l'audio No 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 Non c'è l'audio eh Non sai perché Perché mi sono immaginata che lui dà i colpi con le mani giganti Ma quello era un pugno Ma io sono un genio Ma lui ha un martello eh Frank c'ha un martello Non il pugno È però sembrava un martello Oh mamma mia Io sono un genio Non ti stai comportando male ma ho trovato un nuovo quiz Devi capire Devi dirmi il nome del brawler È È Sandy Troppo tardi Ma è maschio o femmina? Non l'ho ancora capito Non mi fare sta domanda Minna non ne stai dovinando manco uno però Eh Aspetta lo so chi è Oddio Aspetta non mi viene il nome Non lo so Non lo so Non lo so Ragazzi No non è Tic No è qualcuno di robotico sembra Eh allora è Tic No quello lì che spara a bombardino Come si chiama? Ah Bombardino? Vediamo Attenzione Era Tic Era Tic L'avevo indovinato Dai Aspetta C'è il non holder Tipo verso l'infinito e oltre 8 bit 8 bit No devo stoppare perché se no non ho nemmeno tempo di rispondere 5 Rock and roll You destroy Destroy Bombardino Rock Rock Ma perché non ne capisco ne Vabbè ma io ho doppia difficoltà Dai non c'ho manco le cuffie È una femmina È la principessa Piper Sì Ma aveva la voce da principessa Te lo giuro Oh mamma mia Neanche una per adesso Devi essere più brava No no È ora infatti Check out my guns Eh quello nero? No Check out my guns è colt Pium 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 Olè Sei bravissima eh Rock selection Triangulation rock selection Carlo Oh yeah Oh dai stiamo recuperando Stiamo recuperando Un'altra Sento una risata È una cattiva Sarà Ems? Ah io non so Ems ragazzi Non lo so Nita No Ah Nita ce l'ho anch'io Nita No dai Questa non me l'aspettavo Ultima eh Non possiamo sbagliare questa Perché questa è da bocciatura Nella Nell'audio siamo bocciati Vai E parti però Parti Parti Ahà Ma io dico Perché non mettono rosa Io rosa la so Bellissima Eh infatti Questa non lo so Non ho idea di chi Dico Ems pure a questo Magari indovi Shelly Ma non fa il suo rumore Shelly Quella con la pistola Con le traccine Devi dirmi il nome Eh quella città Stai Matti Sì È lei È lei Dai dimmelo È lei Te lo dico Aspetta Eh Jessie Eh Ninna Ma non così Ma io non l'ho mai vista Eh questa è quella Quella cicciona Che non mi ricordo Eh Pam Pam Brava Non è che te l'ho detto io Eh assolutamente no Dai uno ne devi indovinare Oh Mortis Brava Brava Questo ragazzi è il quiz Più facile della storia Però almeno lei si impara Qualche nome Perché sennò davvero È una cosa impossibile Eh Cico Come si chiama Cosa Come si chiama Pocio Pocio Vabbè però Hai capito diciamo La situazione Poco Ah po Eh vabbè Eeeh Corvo Corvo Oh Allora vedi Il quiz da Da un abbetto incredibile Li sai fare un pochetto Dai vabbè vabbè Agiai Agiai Non lo sai nemmeno te No ora si lo so Chi è Penny Penny Ma io non l'ho mai vista Questa Come non l'hai mai vista Questo è quello con le bottiglie È lui dai dillo Lo sai me l'hai detto prima Fede Bombardino Che fedez Fedez canta le canzoni Parley Sì è perché è inglese L'altro vuoi sparare le bombe Bombarolo No De De Dynamite L'abbiamo fatto prima Ninna Ma tu non hai memoria Eeeh Burrill Questo è il mio preferito Lo so E poi si chiamerà Daryl qua perché è l'inglese Però vabbè Questi sono dettagli Brava Brava Questo ormai lo sai Questo ormai lo sai Eh Frank Oh Attenzione Qua non si scherza Ho finito eh Qua non si scherza Super veloce questo test E qua Ti meriti davvero Un bel lotto Ti faccio i miei complimenti Quindi sono promossa Aspettiamo Non lo so Aspetta un secondo Ci penso Signorina Ninna È il momento Delle mie votazioni Allora Abbiamo Riconoscere i brawler dagli occhi Otto No te la devo dare io la votazione Eh no Sì Ti ho dato un consiglio Riconoscere i brawler dagli occhi Qui c'è un sette meno Sette meno Sette meno Sette meno neanche alle elementari Ma Eh purtroppo sette meno Non sei riuscita a riconoscere quasi nessuno Secondo me è anche regalato il sette meno Poi abbiamo Riconoscere i brawler dal suono Diciannove No no Da 1 a 10 Che valutazione ti daresti 9 e mezzo Riconoscervi dal suono No ma 9 e mezzo è perfetto secondo me Signorina Cinavale La sua votazione è 5 Ma 5 5 e matti non lo accetto Ninna Rido al prossimo esame Tutti quelli che hai detto li ho riconosciuti io poi Tu mi descrivevi solo il loro suono Eh allora sono stata brava a descrivere il suono Però le devo dire che qui invece ho una votazione di riconoscere il brawler dall'animazione Di 8 e mezzo 8 e mezzo è buono Complimenti Ninna Queste sono le tre votazioni di oggi Fateci sapere se volete altri video lasciando un bel mi piace Proviamo a superare i 20.000 mi piace Condividete il video a tutti i vostri amici E ci vediamo al prossimo quiz Complimenti signorina Ninna Arrivederci